Molti diranno Oh my god ma che cos'è questo clickbait? Che cos'è questo clickbait? Ragazzi vi dico una cosa Se questo video raggiunge diciamo Quindi mettetevi di impegno i 5000 mi piace Noi chiamiamo qui, avete visto bene Il supporto a Rockstar Games Italia E chiediamo di mettere dentro GTA 6 La vita reale da calciatore e Jasmine come protagonista Quindi ragazzi questo dipende soltanto da voi E adesso godetevi il video che sarà qualcosa di bellissimo Andiamo con la intro Ciao ragazzi e pagliacce Coi amicozzo E benvenuti in questo nuovo video Se vogliamo dirlo così della vita reale da calciatore Anche se più ragazzi della vita reale da calciatore Si parlerà di Jasmine Che è il personaggio diciamo più discusso in questi giorni Sul mio canale E anche penso un po' su GTA in generale Dato che comunque si è fatta un po' di strada in questi mesi Nel modo di GTA Allora vi parto dicendo una cosa Questo video ragazzi sono su posizioni e tutti i rumors Quindi vi dirò le cose che so Le cose che ho saputo Da determinate partner Che sono affiliate a Rockstar Che di cui ovviamente non posso dirvi nome per privacy Però vi posso dire che ci sono dei rumors che possono essere certi E dei rumors che possono essere falsi Quindi ragazzi grazie a YouTube qualcosa ogni tanto si riesce a sapere Per cui vi invito a dirmi nei commenti voi come la pensate E vi ricordo che a 5.000 mi piace chiameremo il supporto a Rockstar Come vi ho fatto vedere Quindi mi raccomando Vedetemi anche nei commenti Se vi piacerebbe questa cosa qui Anche perché pensavo di fare questo video un po' diverso Di spiegazioni Dato che GTA 6 è un po' discusso E non ho mai fatto un video Proprio dedicato su questa cosa E allora pagliacci Prima in fase del video voglio salutare Gabriel Rosu che mi scrive Grande Omega per me sei un mito Bella così Gabriel Ti saluto Sei un mito anche tu Bella così E saluto anche Lorenzo Mauri che mi scrive Bella Omega Ciao Lorenzo Ti saluto E grazie per il tuo commento Per cui ragazzi Sia che voi A bomba Volete essere salutati come loro Da me Dal vostro negozio E dal mio iPhone X Mi raccomando Venite a seguirmi Su Instagram Lo trovate qui In descrizione Quindi passateci due secondi Sapete che ci tengo tanto Sapete che è il metodo migliore Anche per farvi salutare da me E per parlare con me In direct Quindi ragazzi passateci Che comunque alla fine Non vi costa tantissimo Quindi mi raccomando Che vi aspetto Eccoci qui In questo nuovissimo video Io vi voglio dire Semplicemente Di mettere un bel like A bomba Subito subito Perché in questo video Saremo bombardati di informazioni Vi bombarderò di informazioni Che vi raccomando Di prendere tutto al pari Di una teoria Di rumors Che molto probabilmente Si verificheranno Perché ragazzi Lo stesso fu Con GTA 5 Quando ci furono dei rumors Che poi Non fu esattamente Come fu detto Però più o meno Stiamo lì Allora Come vedete ragazzi Qui siete chiedendo Jasmine come mai Ancora in casa di Renato Dopo il tradimento Che ha fatto Si ragazzi Lo so Non dovrebbe più essere qui Infatti Dei prossimi episodi Che riprenderanno regolarmente Quella vita reale Da cacciatore Che spero Come potete seguire Con grande fermento Perché vi piace Piace anche a me Portarvela Spero sparisca Dopo quello che ha fatto Un'altra cosa Vi volevo dire Che in questa settimana Usciranno due nuove serie Belle belle fresche Su GTA 5 Molte persone Hanno fatto video Su GTA serie Soprattutto Molti youtubers Ragazzi Tra cui Il mio compare Zetawillix Ha già fatto un video Sono andato a vedere Sul suo canale Dove smentisce Alcune cose Ragazzi Proprio riguardo Quello di cui parleremo Però io Ovviamente ragazzi Preferisco Dire la mia Perché ovviamente Siamo tutti diversi Dall'altra Sennò ragazzi Il mondo non sarebbe bello Perché il mondo è bello Perché vario Oh fatto Guardate che so poeta Regà Madonna Il GTA 6 ragazzi Molto probabilmente A meno così Si vocifera Verrà messo Verrà pubblicato Insomma Verrà non so Come volete dire Uscirà Pubblicato Messo Creato Non so Come volete voi Insomma Verrà pubblicato Entro il 2022 Perché questa cosa qui Allora Prima di tutto ragazzi Come ben sapete Adesso mettiamo un segnalino Perché andiamo a fare lo strogo Andiamo a strocheggiare Andiamo a strocheggiare Anzi Una cosa Prima di commentare questo video Con commenti inutili Perché so che ci saranno Perché c'è chi non guarda il video E c'è chi guarda il titolo E commenta Senza guardare il video Attenzione Sì ragazzi Esiste questa gente Infatti Non so come fate Sinceramente Perché uno Prima di commentare Guarda il video No E dice Oddio Ragazzi Un orso bruno C'è un orso bruno Guardate C'è un orso bruno Dove è uscito Oh mio dio ragazzi C'è un orso bruno Spuntato da dove Vabbè dai poverino Lasciamolo stare Perché ragazzi Ci tengo che non scriviate Merdate nei commenti Perché io Ci tengo Non vi porto Né clickbait Né notizie false Ma vi ho già detto Che dovete aprire Tutto quello A base di rumor Perché sono rumor Allora Vi è fatta questa Prima e se possiamo iniziare Allora GTA 6 ragazzi Uscirà entro il 2022 Chi è stato a confermarlo Nessuno Sono stato io No non è vero È stato a confermarlo Ragazzi Scusate Questo signore qui Che stavamo per mettere sotto Come sapete Quest'anno a settembre Quindi A fine 2018 Uscirà un nuovo titolo Di Rockstar Games Perché ragazzi Rockstar Games Non fa solo GTA Ma fa altri giochi Come la Noire Red Dead Redemption 2 Che sarà il gioco Che uscirà a settembre E tanti altri Quindi ragazzi Si vocifera Moti dicono Che GTA 6 potrebbe uscire Tra il 2021 E il 2022 Perché C'è un motivo Non perché Gli va a loro Perché ragazzi GTA 5 Intanto Continuerà a sfornare DLC E quindi a loro Va più che bene Perché ragazzi Loro vogliono vendere Vogliono vendere Vogliono continuare a fare soldi Con GTA 5 Finché riescono E poi passate a GTA 6 Quindi mi sembra Che un paio di anni Possono tirarsela ancora Perché pensate che Solo nel 2017 Quindi L'anno scorso Che comunque È un mese È un anno morto Perché GTA è uscito nel 2012 Quindi sono passati 5 anni Si Ha venduto ragazzi Praticamente 17 milioni di copie Un gioco che Ormai diciamo Non sono in quella più nessuno Nel senso che è ormai Uscito da tanti anni Quindi Oh ma te vuoi le vasi Eh madonna Quindi ragazzi Nel senso La gente manco lo Ci pensa più Va a giochi nuovi Tipo i Call of Duty Tipo Fortnite No Invece ragazzi È avuto 17 milioni Di copie E quindi questo Ci fa significare Che GTA ancora Tira Vedete ragazzi Tira come questa Signora qua Che abbiamo buttato sotto E ragazzi Quando non faccio Mi dare da calciatore Finalmente posso Devastare tutto Con Giacomo Motivo per cui ragazzi GTA 6 Poteva uscire Tra il 2021 E il 2022 Proprio perché GTA 5 Si pensi che A quel punto Avrà finito il suo Sprint Diciamo E saranno usciti Abbastanza DLC Anche di Red Dead Redemption 2 Che vi ricordo Che è un GTA Nel Far West In breve Per farvela breve Detto questo Io spero sia così Perché comunque GTA 5 A me piace tantissimo E GTA 6 Potrebbe non piacerci Attenzione Quindi noi Anche se parliamo di questo GTA 6 Potrebbe non piacerci E farci letteralmente schifo Che GTA 6 Potrebbe per la prima volta Avere un personaggio donna E quindi ragazzi Perché non proporre Jasmine al supporto Rockstar Come vi dicevo In la intro Perché ovviamente Sapete che il supporto Rockstar Ascolta appunto Sennò non si chiamerebbe Supporto So che molti di voi Direbbero Omega Sì ma è una minchiata Ragazzi Io ci provo Perché ci credo Fino alla fine Cioè ragazzi Jasmine ha devastato YouTube Italia Su GTA 5 Non so se vi rendete conto Quindi Potremmo anche proporla E proporre Escherero Ronaldo Junior Ronaldo Ecco perché vi ho detto ragazzi 5000 like Lo facciamo Bello rivoluzionare E fare magari Un nuovo personaggio Quindi fare una donna Un uomo E anche un bambino Udite udite Che sarebbe ora Che GTA li mettesse Su GTA Proprio su GTA Sì Eccola vedete così Perché una donna ragazzi Finora non c'è mai stata Come protagonista Secondo me sarebbe Veramente qualcosa di bello Quindi detto questo Molto ovviamente Potrebbe essere una donna Perché ragazzi Si sono sempre stati uomini E sarebbe anche ora Di rivoluzionare Di prendere anche Un pubblico femminile Infatti la Rockstar Qualche anno fa ragazzi Questo era sempre Un rumor Non so se è vero Ammise che voleva Provare a farlo Sul GTA 5 Soprattutto che poi ragazzi Non so perché Non è stato fatto E si concifra Lo stesso per GTA 6 Quindi speriamo Che il 2021 22 sia l'anno buono Quindi GTA 6 Potrebbe uscire Fine 2022 Fine 2021 È più probabile GTA 6 Jasmine e Ronaldo Junior Con le pistole Che vanno a devastare tutto Io lo comprirei Seduta stante Seduta stante ragazzi E voi dovete farlo compare A tutti quelli che conoscete Se veramente succede Una cosa del genere Qui Ragazzi si dice Che sarà Ambientato tra Sud America E Vice City Perché ragazzi Adesso siamo a Los Santos Che sarebbe L'equivalente Di Los Angeles Ronaldo Junior Stai sulla macchina La polizia Schere che ritorniamo La Ferrari Ma è perché Vice City È stata una città storica Su GTA Cioè sapete il successo Che Vice City ha avuto E che ha avuto Comunque il gioco Ma c'è un motivo Di base Che si vocifera Da un po' di tempo Come ben sapete Da qualche anno È uscito Narcos Ragazzi Che era ambientata Negli anni 80 Una serie tv Che riguarda La vita di Pablo Escobar Dei narcotrafficanti In generale E dei cartelli di droga Quindi si vocifera Ragazzi Che la Rockstar Potrebbe fare Un capitolo del genere Ambientato a Vice City Dove appunto C'è lo scambio Di droga Insomma Le rapine Le cose che si fanno Durante gli anni 80 E durante Gli scambi di droga No? Nono che Rockstar Si potrebbe ispirare Realmente a Narcos Dato il successo Che ha ottenuto Perché Narcos Ragazzi Per chi lo conosce Ha avuto Pramente un successone Come serie tv Su Netflix Quindi andatela a vedere Ve la consiglio Oh merda Abbiamo perso il parato Abbiamo perso tutto No ragazzi Questo non è Un rumor generale Ragazzi Ma sono più di uno Che va dicendo Che potrebbe essere possibile Che Rockstar si ispiri davvero a Narcos Dato il successo che ha fatto E non fa una piega Perché ragazzi Per carità È qualcosa di veramente bello E trattandosi di GTA Che è un gioco Diciamo Alla mano Di criminalità Sarebbe proprio perfetto Qualcosa a stile Narcos Perché ovviamente Sapete che su GTA Tipo Io faccio così Prendo il telefono Ed è simile a un iPhone Quindi si ragazzi Esattamente come state vedendo Pensate se noi potessimo Passare da un personaggio Donna Da un'ipotetica Jasmine Puff A un nostro personaggio Maschio Al nostro mitico Ronaldo Nella sua Lamborghini Supreme E magari fare Le missioni Quello che Insomma Sarebbe qualcosa Di fighissimo Pensate voi se Possessimo passare Da Jasmine A Ronaldo Ragazzi Semplicemente A fremento Il tasto di giù O da un personaggio Ipotetico Donna Quello che Insomma Roxar Ragazzi Alla fine Ha sempre cambiato idea Proprio a un anno prima Dell'uscita del gioco Diffamando praticamente Tutti i rumors Ahia Ho zuppato Per cui Prendete tutto Quello che vi ho detto Al pari di teorie Ovviamente L'altra cosa Di cui si discute molto Ragazzi È L'aumento Della realtà Del gioco Che è appunto Ecco perché Io voglio chiamare la Roxar E dire Roxar Vuoi mettere questa vita reale O no Perché piace a tutti Tipo vedete Ragazzi Il contachilometri La benzina Più animali I bambini Tipo L'orso bruno L'avete visto Ragazzi Quella era una mod La Lamborghini Questa qui È una mod Io che butto Sto tipo a terra No Non è una mod Però Vedete Ha messo sotto Quella tipa Cioè Insomma Aumentare La realtà Di GTA 5 Quindi ragazzi Speriamo Che Roxar O meglio Speriamo Nel buon senso Di Roxar Che insomma Alla fine Riesca a fare Quello che abbiamo chiesto Noi Ovviamente Chiameremo a Roxar Se voi piazzate 5000 mi piace Vedrò di poterlo fare Di riuscire a farlo Perché magari Potremmo avere Un Ronaldo Un bravo calciatore Poi un criminale E una ragazza Poi un bambino Quindi nulla toglie Tutto questo Però Come vi ho già detto Queste sono tutte teorie Quindi lascio a voi Commenti su quello che vorreste Su GTA 6 Chiameremo a Roxar Ragazzi Per dire Oh In Italia Vogliamo la vita reale Zì E penso anche In tutto il mondo Perché è una cosa talmente bella Che tutti la vorrebbero Ragazzi Allora Vi saluto Prendo la mia Lamborghini Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Investiamo con questo poliziotto No raga Vedete Un bel polizione in su Se il video vi è piaciuto Per non perdere appunto Gli altri video Della vita reale Da calciatore Da bambino Iscrivetevi al mio canale Se ancora non l'avete fatto Magari in futuro Farò altri rumors E nei commenti Vi ricordo che trovate Le mie maglie speciali In super edizione limitata Quindi raga Passateci Andate a dare un'occhiata Mentre faccio Sta gara col taxi In me di iscrizione ragazzi Trovate il mio instagram Se volete seguirmi Ed essere salutati Nei prossimi video Quindi io ci conto Ci spero ragazzi Quindi venite E passateci Mi raccomando Fatelo eh Bene Direi che per questo video È tutto Noi ci sentiamo Al prossimo video Voglio sapere la vostra Nei commenti Come viaggiate Oddio Trinkerato Mi ha trinkerato Il polman Il treno Scusate Dove sei stato trinkerato Dal treno Spero vi sia piaciuto ragazzi Qua è la megozzo E se becamo Al prossimo video Eschere Eeeh Eeeh